Buongiorno bambini, eccoci qua con un'altra puntata sui chain look. Oggi andremo a fare il chain look numero 5. Il chain look numero 5 completa il programma dei chain look per la cintura blu. Allora, non è difficile, ci mettiamo sempre in posizione di guardia e la prima tecnica che andremo ad eseguire sarà un da tang eseguito con la gamba che abbiamo dietro, ovvero la gamba destra. Si esegue il da tang, si richiama, si appoggia in avanti, quindi andiamo a finire in dintan destro e subito dam tang. Dam tang è pugno diretto, seguito immediatamente dal dan bua. Ok, dan bua o dan bat, due nomi diversi, una tecnica è la stessa e in pratica dopo aver tirato il dam tang andremo ad eseguire appunto questo movimento qua. Magari molti di voi questa tecnica non l'hanno ancora vista, ancora fatta, comunque è estremamente semplice. Quindi, da tang, dam tang, dam bua, posizione di guardia, finito il chain look. Molto semplice, ripassatelo, cercate di farlo più volte, lo rivedremo insieme nelle lezioni online, se avete qualche dubbio mi scrivete. Mi raccomando, buona giornata a tutti e speriamo di vederci presto. Ciao ragazzi! Grazie a tutti!